Serve un grande spirito di osservazione per poter collere i dettagli in grado di mutare la consapevolezza della realtà e farci guardare il mondo con occhi differenti. Questo libro tenta di fare luce su una serie di elementi simbolici, in qualche modo estotericamente legati al leader storico del Movimento 5 Stelle e di rispondere ad altri risolti interrogativi sulla carriera politica iniziatica di Beppe Grillo.